La nostra filosofia aziendale è molto vicina alla filosofia aziendale di Great Place to Work, è il motivo anche per cui siamo qua. Noi pensiamo che qualsiasi momento architettonico debba essere preceduto dalla considerazione che l'uomo è al centro di qualsiasi progetto. In particolare noi abbiamo tre business unit all'interno della nostra azienda e una di queste business unit si occupa proprio della progettazione degli spazi di lavoro. E quindi in questo senso l'uomo è inteso come lavoratore e come dipendente. Noi ci occupiamo del benessere di queste persone, lo facciamo attraverso la progettazione degli spazi. Il nostro valore aggiunto è l'engagement, quindi usiamo l'engagement quasi come se fosse una sorta di termometro per valutare se un progetto è venuto bene, quindi la bontà di un progetto. Lo possiamo fare attraverso gli spazi, quindi gli spazi ci permettono di veicolare in maniera anche più rapida tutta una serie di informazioni che non sono propriamente architettoniche ma che sono tutto lì intorno, quindi tutta una serie di concetti che vanno di pari passo. Quindi ci occupiamo appunto delle persone così come fa Great Place to Work. Non c'è una ricetta precisa per dire che un'azienda può diventare innovativa attraverso un determinato tipo di spazi, quindi il lavoro che noi facciamo è fatto ad hoc su ogni azienda, perché ogni azienda è diversa, ha le sue caratteristiche, le sue peculiarità e anche diversi modi di lavorare. Però una cosa è certa, ormai sappiamo che il modo di lavorare è un nuovo modo di lavorare, quindi non possiamo immaginare l'ufficio come semplicemente una scrivania con un computer in open space o in un ufficio chiuso. Quindi le attività che vengono svolte normalmente durante la propria giornata lavorativa, durante la propria vita lavorativa, sono tantissime e hanno la stessa dignità delle attività che vengono svolte normalmente alla propria scrivania. Quindi anche celebrare i successi o fare un riposo o parlare con i propri colleghi in una zona social ha la stessa importanza che svolgere il proprio topic al computer. Quindi un'azienda che vada a dare sostegno a tutti questi spazi alternativi è un'azienda innovativa, che mira ad avere un great place to work e quindi possiamo trovare spazi per la celebrazione dei successi, un teatro, una zona dove fare un riposino, delle zone per la socializzazione dove il brand aziendale viene messo in luce. Beh, diventare partner di great place to work per noi è stato un processo naturale, perché condividiamo la stessa mission ma da punti di vista diversi. Se great place to work studia le aziende dal punto di vista delle culture, il Prisma progetta spazi di lavoro che sono fatti per rappresentare al meglio le culture di ogni azienda e con un plus in più che è quello di creare engagement, ovvero creare il coinvolgimento attivo delle persone che vivono questi spazi. Il Prisma è partner con great place to work da tantissimo tempo ormai, per cui la nostra volontà è quella di continuare questo percorso insieme a great place to work.